Diciamo che l'obiettivo di questa città, del sindaco, della giunta, del consiglio comunale è su tre grandi questioni, la tutela della salute, la casa della salute, il potenziamento della casa della salute, la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e il rafforzamento del punto informazione al lavoro del centro per l'impiego, perché dialogando le imprese che cercano lavoratori per fortuna ancora qui da noi e dialogando con chi cerca lavoro e rafforzando il punto informazione al lavoro, ovviamente quando uno ha la salute e il lavoro e il terzo obiettivo è quello che dicevo poc'anzi che è quello della sicurezza, della serenità delle persone perché sanno che qui a Vallefoglia le regole si rispettano e si tutelano gli interessi della comunità.